Estrella, la birra per chi entra in se stesso Che giorno è oggi? Oggi è due, no, tre Le tazze registrano il primo disco alla prima prova 3 aprile 2012 Quanto dura? Quanto dura il primo disco delle tazze? Dura il mondo Lo dice il cellulare Ora sveglia Ora sveglia, vai Sveglia attiva Sveglia attiva, 0-0 Il primo disco delle tazze finisce alle 0-0 del 4 aprile 2012 Bene Le tazze in borghese Le tazze in borghese Eh, senza no Nel senso, un tipo di abbiglia mio Tutto mi metto Tutto mi metto Eh? A ghindare Vai, vai, vai E' un po' di abbiglia mio 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 Grazie a tutti.